Cari amici, cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Oggi è mercoledì, 24 aprile 2013, io sono sempre qua in un bar cari amici. Vedete il titolo di questo video? Serafino Massoni, eredità. Il fatto è, cari amici, che succedono sempre le cose più strane, anche belle, anche belle. Se voi andate sul mio video, un mio video recente intitolato Pierluigi Bersani, la caduta, trovate un meraviglioso intervento di un amico, di un amico, il quale scrive le seguenti domande. Serafino, ci faresti un video che ci spieghi cosa fare e come essere informati nel caso tu morissi? Poi, come saremmo informati nel caso che io morissi? Ha ragione, bravo, bravo caro amico. Poi, cosa ne sarà del tuo canale e dei tuoi video? C'è chi erediterà la partnership? Accidenti, che bello il tuo intervento, caro amico. Scusami se io pronuncio male il tuo nickname, scusami caro. Tu sei, il tuo nickname è sei, proprio il numero sei. Sei, linde sei, man sei. Tre volte sei, tre volte sei, però sei, linde sei, man sei. Bellissime, bellissime le tue domande. Allora ti rispondo, caro amico, che ho già provveduto a fare testamento. Non è un testamento relativo al denaro, perché non ho una lira, caro amico. Io vivo solo della mia pensione, sono quasi sempre nei bar, pensa un po' a te. Io vivo solo della mia pensione, la pensione è di preside di ruolo, di ricei classici e scientifici. D'accordo? Mi accontento, mi accontento, d'accordo? Non mi posso lamentare. Quindi la mia eredità in che consiste? In che consiste? Consiste in questo canale, questo canale, questo, tra virgolette, prestigioso canale su YouTube che vanta tantissimi iscritti, stiamo andando verso gli 8 mila iscritti e che vanta diversi milioni di visualizzazioni, mi pare che stiamo andando verso i 4 milioni di visualizzazioni che vanta pure la Pannyship. Ho già pensato, anche perché una società di Berlino, tempo fa, mi ha scritto che è interessata al mio canale e che intende promuoverlo, per cui io ho sottoscritto il contratto con questa società di Berlino e ho detto a questa società di Berlino che questo mio canale è anche co-gestito da un amico, e che quando io morirò sarà questo amico a prendere in mano le eredini del canale, in toto, in toto, in toto. Il canale, caro amico, che domande che hai mai fatto, che domande! Il canale si basa su questa mia opera storico-mitologica, che ormai la conoscete tutti, cari amici, la conoscete tutti, questa opera storico-mitologica, e poi su questo canale io parlo anche di queste mie opere, a queste mie opere, su questa, capito, cari amici, capito, capito, cari amici, capito, cari amici, e ho già provveduto, caro, ho già provveduto. E il contratto con la società di Berlino parte, mi pare, parte dal 30 aprile o dal 1 maggio, o d'anzi pure che dal 30 aprile o dal 1 maggio il mio canale avrà una veste, una veste diversa, non so, so soltanto che questa società di Berlino valorizza i canali che hanno una certa vitalità, li valorizza, li valorizza, e loro vivono di queste cose, avranno una compartecipazione, una modica con partecipazione alle entrate pubblicitarie. Non lo so che veste avrà questo canale, cari amici, dal 30 aprile o dal 1 maggio, non lo so, il my canale è nelle mani di questa società di Berlino, e poi questo canale è già co-gestito da un amico, e quando io morirò questo amico sarà l'erede di questo canale, d'accordo? Ok, cari amici, ok, cari amici, ovviamente io spero di essere con voi ancora per tanto tempo, va bene? Grazie caro amico, grazie a tutti voi che mi avete seguito, e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni. Grazie a tutti.